ciao da questa parte proprio così sono io la casa stregata parlante prego entrate se avete il coraggio bussa bussa sul battente d'ottone bussa bussa sul battente d'ottone bussa bussa sul battente d'ottone prego entrate dai sedetevi nel salotto dai sedetevi nel salotto dai sedetevi nel salotto dai sedetevi nel salotto vorreste un po' di tè? passo dopo passo in punta dei piedi passo dopo passo in punta dei piedi passo dopo passo in punta dei piedi cosa c'è dietro la porta? salite su nel pauroso attico salite su nel pauroso attico salite su nel pauroso attico cos'è quel suono tintinnante? scricciola scricchiola semi interrato scricciola scricciola il semi interrato scricciola scricciola il semi interrato Cosa c'è dietro la porta? Striscia, striscia nell'oscurità Striscia, striscia nell'oscurità Striscia, striscia nell'oscurità Cosa c'è dietro quell'albero? Dì il mostro che suona l'organo Dì il mostro che suona l'organo Dì il mostro che suona l'organo Paggy, no, no, no! Felice Halloween!